Arrivano insieme per la conferenza stampa fissata alla cittadella regionale il ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli e il presidente della regione Roberto Chiuto. La missione calabrese del ministro leghista è sostanzialmente quella di placare le tensioni perché il DDL sull'autonomia differenziata non convince tutti e lo stesso ministro a spiegare la proposta che sottolinea non deve far paura. Non deve fare paura perché innanzitutto chi non dovesse richiedere l'autonomia differenziata avrà la garanzia di avere le medesime risorse e un meccanismo perequativo che è in grado di superare le sperequazioni esistenti precedentemente quindi nessuna paura sotto quell'aspetto. Io vedo delle grosse potenzialità proprio per le caratteristiche che l'Italia ha di diversità e quindi delle potenzialità che a livello di ciascuna regione può determinare un incremento del PIL, dell'occupazione e del benessere economico dei cittadini. Ad essere contestato è soprattutto il criterio della spesa storica che rischia di replicare le diseguaglianze in essere tra regioni del nord e regioni del sud ma Calderoli precisa. Io ho previsto che debbano essere definiti i LEP quindi i livelli essenziali di prestazione, i costi e fabbisogni standard. La spesa storica sarà un'operazione trasparenza per verificare come i soldi siano stati spesi in passato, se bene o se male e che fine abbiano fatto. Insomma la legge che dovrebbe essere approvata come proposta entro gennaio, queste le speranze del ministro, non intende, solo parole sue, penalizzare nessuno. Lo stesso presidente della regione Calabria, Roberto Chiuto, ha definito l'autonomia differenziata una grande occasione. Sì io vedo delle potenzialità, a condizione però che ci sia la definizione dei LEP si investa davvero sulla perequazione. Dico questo, che in passato chi ha governato le regioni del sud ha scelto un approccio meramente rivendicativo, difensivo è questo che ha prodotto sperequazione, non ha prodotto alcun beneficio per le regioni del sud. Io vorrei essere un presidente che governa una regione del sud ma che non sfugge il confronto con le regioni del nord e cerca di sfidarle sul piano delle opportunità che l'attuazione della Costituzione può riservare anche al mezzogiorno.